Sono mille profumi falsi d'autore sequestrati dal comando provinciale della Guardia di Finanza dell'Aquila nei negozi cinesi della Valle Peligna. La contraffazione di capi di abbigliamento è un fenomeno piuttosto noto al pubblico dei consumatori. Meno conosciuta è invece la pratica di riprodurre e di mettere sul mercato profumi contraffatti. È quanto hanno scoperto i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona nel corso di una serie di servizi mirati a colpire l'illecito commercio di prodotti falsi. A seguito di un'attenta attività info-investigativa condotta nell'ambito dei servizi a tutela dell'economia sono state eseguite una serie di perquisizioni che si sono concluse con il sequestro di mille profumi falsi d'autore per un valore di circa 5.000 euro e la denuncia di due responsabili. I profumi sono delle marche più richieste sul mercato da Acqua di Gio, di Armani a Paco Rabanne, a Chanel numero 5 ma anche Biagiotti, Versace, Obsession di Calvin Klein e tanti altri ancora. Le perquisizioni e di sequestri sono avvenuti in diversi negozi del comune di Sulmona, tutti gestiti da soggetti di nazionalità cinese. Benché sia chiaro che non sono originali, recenti sentenze della Cassazione equiparano questi prodotti a quelli taroccati. La contraffazione del commercio di prodotti insicuri danneggiano il mercato, sottraggono opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole mettendo tra l'altro in pericolo la salute dei consumatori. La vicenda è stata segnalata alla procura della Repubblica di Sulmona, essendo state ravvisate l'ipotesi di reato di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.